Ben ritrovati con l'appuntamento meteo. Situazione barica bloccata con la depressione nord-atlantica che insiste sull'Europa centro-occidentale ed il flusso caldo nord-africano che si spinge sul Mediterraneo. Da domani la depressione tenderà a spostarsi verso latitudini settentrionali e l'aria calda dal nord-africa tenderà seppur debolmente a ridurre il suo influsso verso l'area mediterranea. Anche la copertura nuvolosa gradualmente dovrebbe smorzarsi al centro-sud mentre sulle regioni settentrionali continueranno i contrasti con temporari possibili sull'arco alpino ma anche in pianura padana. In Abruzzo altra giornata con estese velature in tutti i settori che dovrebbero ridursi sensibilmente entrosera dando il via ad una fase più soleggiata. La ventilazione diverrà moderata sui monti e debole altrove sempre dai quadranti meridionali del mare quasi calmo. Le temperature minime della notte saranno comprese tra 18 e 24 gradi e le massime di domani stazionari o in leggerissima diminuzione comprese tra 28 e 33 gradi. Buona serata a tutti.